Allora ragazzi buongiorno e bentrovati su Green Italy, è domenica mattina, approfitto come sempre di queste bellissime giornate di sole per portarmi avanti con dei lavori, nello specifico oggi voglio iniziare a raccogliere delle marze, ho questo albero di prugne, albero che diciamo ormai sta qui da diversi anni, è sviluppato, ha un bel palco, purtroppo però mi produce diciamo dei frutti che non mi soddisfano, sono delle prugne che veramente non sanno di niente e tra l'altro hanno anche problemi nei vari stati di maturazione, quindi quest'anno in primavera andrò ad effettuare un innesto generale, quindi andrò a sostituire completamente la pianta andando ad innestare delle porzioni di ramo, appunto le cosiddette marze, prendendole invece da una pianta che mi piace tantissimo, ora quindi mi raccomando non perdete la fantastica puntata di oggi perché queste operazioni le faremo insieme, io mi organizzo come sempre e ci vediamo subito dopo la sigla, ciao! Allora eccoci qua, eccoci qua bentornati, come vi dicevo appunto nella intro ho problemi con questa pianta appunto che non mi soddisfa proprio da un punto di vista di qualità dei frutti, quindi cosa possiamo fare? Allora innanzitutto ci troviamo a gennaio, fine gennaio, quindi questo è ragazzi il momento migliore per andare a prelevare gli innesti, quindi andremo a capire un attimino come come fare. Allora innanzitutto è importantissimo farlo in questo periodo dell'anno e questo perché? Perché la pianta è in riposo vegetativo. Quando ho iniziato ad appassionarmi appunto al mondo degli innesti, l'inesperienza mi portava ad avere dei cattivi risultati e questo perché? Perché mi ricordavo sempre all'ultimo e quindi le marze che andavo a prendere avevano già le gemme che stavano sbocciando, cosa di più sbagliato che possiamo fare. Perché? Perché se noi andiamo appunto a prendere una porzione di ramo, quindi la nostra marza, quando le gemme stanno sbocciando e andiamo ad effettuare l'innesto, la linfa appunto contenuta all'interno della nostra marza andrà ad utilizzare tutte le forze per andare a sviluppare appunto i germogli. Ok? Quindi che cosa succedeva? Andavo a fare l'innesto e dopo qualche giorno vedevo che appunto la gemma stava iniziando a sbocciare ma dopo qualche giorno appunto moriva. Per avere dei buoni risultati dobbiamo ricordarci di fare questa operazione adesso che siamo a gennaio massimo i primi di febbraio. Insomma è importante che la nostra porzione di ramo sia dormiente. Ok? Quindi adesso abbiamo fatto un pochino di teoria, passiamo all'azione e andiamo invece sulla pianta da cui andremo a prendere le nostre marze così andremo a capire come fare al meglio. Quale porzione di ramo dobbiamo prendere? Parliamo di rami che abbiano almeno un anno di vita e come facciamo a capirlo? Ma perché andiamo a prendere diciamo la parte di ramo che ha legnificato quindi eccola qui una porzione di ramo che fa il caso nostro. Allora consideriamo quindi scartiamo scusate rametti di queste dimensioni. Sono troppo piccoli per effettuare l'innesto. Ok? Quindi fatto questo andiamo a fare in modo che la grandezza della marza sia all'incirca tra i 40 e i 50 centimetri. Quindi presa la metà andiamo a prendere una ventina di centimetri da una parte e una ventina di centimetri dall'altra andando a togliere le parti esterne. Quindi questa parte e questa parte. Dobbiamo quindi cercare di creare delle marze che abbiano pressoché tutte la stessa grandezza. Abbiano come si vede in questo caso delle gemme che inizieranno appunto a creare dei nuovi getti. Ok? Quindi io intanto mi avvantaggio inizio a raccogliere tante porzioni di ramo quanti saranno gli innessi che devo effettuare. Considerando poi che ci potrebbero essere magari degli innessi che diciamo non prendono mi dovrò almeno procurare quattro cinque marze per ogni ramo da innestare. Come facciamo per farli tutti della stessa misura semplicissimo. Una volta che abbiamo i nostri campioni andiamo appunto a effettuare dei tagli in questo modo. Ok? Semplice ve lo dico ma è veramente semplicissimo. Allora eccoci qua siamo tornati nella postazione nell'orto. Cerchiamo di andare a capire insieme qual è l'ultimo aspetto che tra l'altro ragazzi è il più importante ossia la conservazione delle nostre marze. Io nel frattempo l'ho preparata da diversi alberi. Qui abbiamo appunto una varietà di prugna. Qui abbiamo albicocca e qui invece abbiamo la ciliegia. Quindi andiamo a anzi andrò ad innestare più varietà sullo stesso albero. Allora cosa ci serve? Quindi oltre le marze avremo necessità di un pochino di spago e sicuramente di una bussa di plastica nera per andare appunto a conservare al buio e poi come vedremo in frigorifero i nostri innesti le nostre marze. Allora cosa importante soprattutto se come nel mio caso andiamo andremo anzi ad innestare più varietà è quella di dotarsi di carta e penna e andare a segnare le varietà perché è importante saperle insomma ok anche perché poi magari passa del tempo e ci dimentichiamo. Prima cosa che dobbiamo fare è soprattutto perché queste come ho detto andranno conservate in frigo ecco perché anche la grandezza diciamo che non deve essere così importante. Pensate che nell'antichità le marze si conservavano nel terreno quindi si scavava una buca in una parte diciamo più ombreggiata dell'orto e si andavano a interrare a una profondità di circa 40 centimetri. Si è persa un pochino questa usanza allora andiamo come prima cosa a legare le marze nei vari apici quindi nella parte superiore e nella parte inferiore stando sempre attenti come vi ho detto prima a non andare a rovinare le gemme ok quindi andiamo ad effettuare una legatura tagliare la parte di filo in eccesso a questo punto dobbiamo prendere la nostra busta di plastica e avvolgere le marze facendo attenzione che le estremità rimangano ben chiuse quindi facciamo in questo modo andiamo a creare un involucro di questo tipo l'importante è che rimangano bene al buio non serve andare a bagnare ad utilizzare altre cose perché diciamo l'umidità della marza stessa andrà a garantire appunto la sopravvivenza per questi un mese un mese e mezzo insomma fino a quando non avremo appunto necessità di fare l'innesto. Andiamo a chiudere nuovamente le estremità quindi creiamo diciamo una sorta di caramella ok così da non far penetrare all'interno della busta aria e soprattutto luce eccoci qua questa è la nostra marza io almeno faccio così vado a segnare la varietà utilizzata quindi in questo caso abbiamo le ciliegie vado a fare un fogliettino e lo vado a legare anche nella parte centrale in questo modo a questo punto come ho detto mi raccomando non mettetelo in freezer ma riponiamolo diciamo nella parte bassa del frigorifero quella che magari viene appunto utilizzata per conservare le verdure ok quindi temperatura 4 6 gradi questa marza resisterà fino a marzo quindi periodo in cui andremo ad effettuare i nostri innesti e soprattutto una nuova puntata appunto a documentare questa operazione quindi questo ragazzi è il risultato poi se lo riuscite a fare meglio perché no scrivetemi nei commenti e anzi così lo condividiamo lo condividiamo con tutti bene ragazzi allora io termino qui la puntata continuo il mio lavoro quindi mi raccomando fatelo contestualmente il lavoro di conservazione spero soprattutto che questa puntata vi sia piaciuta fatemelo come sempre sapere nei commenti e che dirvi di più noi ci vediamo come sempre nei prossimi fantastici video ciao